Come creare il sistema più veloce per acquisire clienti Proprio ieri parlavamo di quali sono i clienti più propensi all'acquisto e oggi ci leghiamo a questo tema e ragioniamo su come creare un sistema di acquisizione di clienti molto efficace o meglio, che porti i clienti in maniera più velocemente possibile Per prima cosa dobbiamo tenere a mente il fatto che per fare ciò dobbiamo necessariamente utilizzare l'online Io prediligo i social network nella maggior parte dei casi perché ci permette di raggiungere tantissime persone e a costi molto sostenuti soprattutto le persone con le caratteristiche che decidiamo noi, questo è essenziale Il punto numero uno Inoltre online abbiamo la possibilità di avere immediatamente un riscontro Quindi oggi inizio a fare pubblicità tra due ore o comunque domani ho già i primi dati da poter analizzare per capire se qualcosa sta funzionando, qualcosa non sta funzionando e via dicendo Quindi la velocità è decisamente superiore di qualunque altro tipo di campagna tradizionale offline che può essere radio, volantinaggio e via dicendo Dobbiamo poi creare un messaggio pubblicitario che faccia capire alle persone quello che facciamo e come le possiamo in qualche modo aiutare come il loro problema può essere risolto o come grazie a noi possono stare meglio Ora è difficile generalizzare il tutto però se sei un massaggiatore risolvi un problema se sei un nuovo ristorante dai la possibilità alle persone di venire in anteprima una serata esclusiva ad esempio se sei un estetista fai sentire belle le persone insomma in base alla tua tipologia di business tu bene o male, volente o non lente, vai a risolvere un problema e come dicevo ieri in una fase iniziale dobbiamo individuare le persone che hanno più bisogno di noi in maniera diciamo nell'immediato quindi dobbiamo creare un messaggio che faccia capire alle persone a queste persone quello che facciamo come le possiamo aiutare e quello che devono fare per diciamo venire da noi, diventare nostri clienti comprare il nostro prodotto, comprare il nostro servizio io a livello pubblicitario al momento prediligo il sistema di Facebook quindi Facebook e Instagram perché come dico spesso ha una capacità di profilazione incredibilmente elevata quindi possiamo veramente scegliere le caratteristiche delle persone alle quali mostrare i nostri annunci dove vive una persona, il sesso, l'età e altre caratteristiche se è una mamma, se è dei figli, l'età dei figli insomma veramente tante informazioni e questo ci permette di mostrare un annuncio a un pubblico molto molto definito quello che poi dobbiamo fare è rendere chiara un'azione che il cliente deve fare ad esempio clicca qui, compila questo modulo per essere richiamato dai nostri commerciali perfetto questo è un metodo molto semplice, molto elementare ma che funziona incredibilmente bene oppure clicca qui, compila il modulo per ritirare il tuo coupon sconto ad esempio perfetto anche questa è una cosa che funziona molto lo scopo è catturare i dati del cliente per poi ricontattarli oppure ancora compila questo modulo per prenotare la tua consulenza gratuita il cliente lascia i dati, lo richiami e fissi questa consulenza gratuita insomma deve essere molto chiaro per il cliente quello che deve fare il passaggio che deve fare e più è semplice questo passaggio maggiore sarà la probabilità della tua pubblicità di convertire quindi che effettivamente il cliente passa l'azione non serve altro spesso ci si concentra su sistemi troppo elaborati veramente funnel giganteschi mail, 10 mail, 4 video poi l'offerta che scade insomma si crea un qualcosa che in una fase iniziale e ne parlavo proprio ieri è inutile all'inizio ci saranno persone che devi raggiungere in maniera veloce che devono risolvere vogliono risolvere in maniera rapida il loro problema e se tu ti poni come la giusta soluzione quello che loro effettivamente stanno cercando o si rendono conto che il tuo prodotto o servizio è proprio quello di cui loro avrebbero bisogno hai vinto cioè fine non c'è altro il passaggio dal vedere la tua pubblicità a contattarti deve essere il più semplice possibile c'è da essere meno frizione possibile e tutto il resto sarà davvero in discesa quindi inizia a ragionare in questo modo e crea la tua prima campagna pubblicitaria così i risultati garantito arriveranno molto velocemente se hai bisogno di qualcuno che ti segua questa tipologia di campagna scrivimi che ti do il contatto di qualche ragazzo molto bravo magari indicami il budget così in base a quello ti indico chi è più costoso però più efficace chi è un pochino più economico però non c'è problema sono tutti ragazzi molto in gamba con questo è tutto io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani ciao aggiungo e se il tuo business non risolve nessun problema hai un problema nel senso che qualunque business in realtà risolve un problema bisogna solo identificare quale le persone quando fanno un acquisto è perché vogliono risolvere un problema non hai il pane in casa devi comprare il pane paradossalmente compri un forno a microonde perché vuoi cuocere velocemente il cibo non hai voglia di metterlo in padella metti il microonde accendi due minuti ed è pronto quindi risolvi un problema di velocità nella preparazione di paste insomma qualunque cosa risolvi un problema una vacanza perfetto vuoi rilassarti vuoi finalmente staccare un po' della quotidianità vuoi regalarti del tempo per te perfetto siamo la soluzione giusta quindi indipendentemente da quello che vendi tu sarai adatto a qualcuno in particolare faglielo sapere fagli capire il perché dovrebbe scegliere te e ripeto tutto il resto sarà in discesa con questo è tutto davvero e ti saluto ciao 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 ciao